Un ragazzo lancia un sacchetto di sabbia in cima a un muro alto 4 metri e posto a 1,3 metri davanti a lui. Il sacchetto si stacca dalle mani del ragazzo a un'altezza di 1,5 metri da terra, come mostrato in figura. La velocità di lancia è di 7,5 metri al secondo. L'angolo con l'orizzontale è 80 gradi. L'attrito con l'aria è traspurabile. Quanto dura il volo del sacchetto di sabbia? Allora, come prima considerazione prendiamo un sistema di riferimento coincidente con la mano dove c'è il sacchetto di sabbia che deve essere lanciato, x, y e x. Siccome le componenti del moto sono fra loro indipendenti, quella lungo l'asse verticale e quella lungo l'asse orizzontale, scriviamo l'equazione del moto uniformemente accelerato per le due componenti e avremo che x uguale x0 più v0 vxt più 1,5 axt quadro. Mentre per la componente lungo l'asse delle y avremo y0 più vyt più 1,5 axt quadro. Queste sono le equazioni generiche. Andiamo a vedere rispetto al nostro sistema di riferimento, cosa vuol dire? Senz'altro le componenti della posizione iniziale sono uguali a zero proprio per come abbiamo scelto il nostro sistema di riferimento, quindi si annullano. Le componenti vx e vy dipende dal nostro vettore velocità iniziale. sappiamo che il nostro vettore velocità ha modulo pari a 7,5 m al secondo e che ha un'inclinazione di 80 gradi. Allora, vuol dire che possiamo scomporre il nostro vettore velocità nelle due componenti orizzontale e verticale, sapendo che questo è l'angolo rispetto all'asse orizzontale. In questo caso, applichiamo le formule trigonometriche e possiamo scrivere che vx è uguale a v coseno di alfa e vy uguale a v per il seno di alfa. Questa vy e questa vx e questo qui l'angolo alfa. Per quello che riguarda l'accelerazione, sappiamo che lungo l'asse delle ascisse l'accelerazione è nulla perché non vi è alcuna forza che interviene su quella direzione. E lungo l'asse delle y invece c'è un'accelerazione che dipende dall'accelerazione di gravità. Quindi andiamo a riscrivere le nostre equazioni e avremo che x è uguale a vx che sarebbero v coseno di 80 gradi e nient'altro. E y è uguale a vy che sarebbe v seno di 80 gradi meno, meno perché l'accelerazione di gravità è diretta in senso contrario rispetto come verso rispetto al nostro sistema di riferimento, un mezzo g t quadro. Qui t e qui t. Innanzitutto andiamo a calcolare le componenti vx e vy. Abbiamo la velocità è 7,5 metri al secondo per il coseno di 80 gradi uguale e abbiamo 1,3 metri al secondo e 7,39 metri al secondo. Ora andiamo a sostituire nel nostro sistema di equazioni il valore del tempo e risolviamo rispetto alla posizione. Quindi vorrebbe dire che t è uguale, per semplicità scriviamo queste componenti come vx e vy, t uguale x fratto vx. Quindi all'interno della nostra espressione della posizione rispetto al tempo diventa vy che moltiplica x fratto vx, questo era il tempo, meno un mezzo g x quadro fatto vx quadro, che possiamo scrivere come t è uguale x fratto vx e y uguale vy fratto vx per x meno g fratto 2vx quadro, x alla seconda. Dato che questa espressione rappresenta la traiettoria percorsa dal sacchetto, ci possiamo chiedere per quali valori della x, quindi della componente orizzontale, l'altezza corrisponde a 4 metri. Andiamo a sostituire quindi i valori all'interno di questa espressione, tenendo conto che il nostro sistema di riferimento che coincide con la mano, è già a un metro e mezzo di altezza. Quindi per sapere a quale altezza corrispondono i 4 metri, vuol dire che rispetto al nostro sistema di riferimento, questa altezza qui corrisponde ai 4 metri meno 1,5 che sarebbe questa altezza che è l'altezza della mano rispetto al suolo. Quindi come scrivere per conoscere qual è questa posizione e questa posizione? Rispetto al nostro sistema di riferimento dobbiamo scrivere 4 metri meno 1,5 uguale, uy l'abbiamo calcolato è 7,39 diviso ux 1,3 per x meno 9,8 diviso 2 per 1,3 vx alla seconda x alla seconda. Questa equazione diventa 2,5 uguale 5,68x meno 2,9x alla seconda. È un'equazione di secondo grado che possiamo riscrivere come 2,9x alla seconda meno 5,68x più 2,5 uguale a 0. Risolviamo questa equazione di secondo grado trovando i due valori, quindi x1, x2 uguale, linea di frazione, applichiamo la formula per risolvere l'equazione 5,68 più o meno la radice quadrata di 5,68 alla alla seconda meno 4 volte ac che sarebbero 2,9 per 2,5 diviso 2 volte il coefficiente della x al secondo grado, 2,9. risolvendo questa espressione otteniamo 5 uguale a 5,68 più o meno la radice di 32,26 meno 29. tutto fratto 5,8 che è come dire 5,68 meno 1,8 diviso 5,8 e 5,68. più 1,68 più 1,8 diviso 5,8 e otteniamo 0,67 metri e otteniamo 1,3 metri. e il risultato di questa espressione mi dice che quando rispetto al nostro sistema di riferimento ci sarà una distanza di 0,67 metri e una distanza di 1,3 metri, che è già questa distanza qui, il nostro sacchetto ha un'altezza di 4 metri. possiamo utilizzare adesso l'espressione che lega il tempo alla posizione rispetto all'asse delle x che sarebbe questa espressione qui che abbiamo scritto qua sopra. quindi rispetto al nostro sistema di riferimento potremmo dire che t è uguale a x diviso vx uguale, in questo caso la nostra posizione è 1,3 metri diviso la velocità era 1,3 metri fratto secondo uguale, si semplificano, viene 1 secondo. qui dopo un secondo il nostro sacchetto ha un'altezza di 4 metri e si trova a 1,3 metri distante dal nostro sistema di riferimento. 1,3 metri è proprio la posizione del muro. rispetto alla domanda che ci fa il problema vogliamo anche dare altre due risposte. dopo quanto tempo il sacchetto raggiunge la sua altezza massima e qual è l'altezza massima raggiunta. per fare questo dobbiamo prendere in considerazione l'espressione che lega la velocità e l'accelerazione rispetto all'asse delle y. sappiamo che il sacchetto quando raggiunge l'altezza massima in questo punto la sua velocità è uguale a 0 perché la velocità di lancio del sacchetto è stata annullata dalla velocità di segno contrario dovuta all'accelerazione di gravità. quindi è come dire che la componente lungo l'asse delle y meno la velocità dovuta all'accelerazione di gravità dopo un certo tempo è uguale a 0. è come dire risolvere rispetto al tempo e trovare uy rispetto all'accelerazione che è uguale a 7,39 metri fratto secondo diviso 9,8 metri fratto secondo quadrato uguale 0,75 secondi quindi dopo 0,75 secondi il sacchetto raggiunge la sua altezza massima. ci chiediamo qual è questa altezza massima quindi utilizziamo come espressione questa la posizione verticale rispetto al tempo e andiamo a sostituire i valori quindi avremo che y è uguale il valore della componente della velocità lungo l'asse delle y quindi 7,39 metri fratto secondo per 0,75 secondi meno un mezzo per 9,8 metri fratto secondo quadrato per 0,75 secondi al quadrato uguale uguale a 5,57 metri meno 2,79 uguale a 2,78 metri quindi rispetto al nostro sistema di riferimento quando questa altezza è 2,78 metri abbiamo l'altezza massima rispetto al suolo vorrebbe dire che dovremmo aggiungere un metro e 50 quindi rispetto al suolo dovrebbe essere 2,78 metri più 1,5 uguale a 4,28 metri quindi l'altezza massima raggiunta è di 30 centimetri in più rispetto all'altezza del muro grazie 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 grazie